VINCE LA CINQUANTASENTESIMA EDIZIONE DELLA PROPEO LAIGUEGLIA Questo corridore in baglia azzurra della nazionale italiana può festeggiare, festeggia su mano Giulio Ciccone! Giulio Ciccone è una grande dedica sul treguardo di Laigueglia, prima corsa dell'anno, prima vittoria Sì, ci tenevo a fare questo regalo a mia mamma e ci sono riuscito subito nella prima occasione Quindi ce l'ho fatta, è il modo migliore per iniziare l'anno Il 2020 si apre nel migliore dei modi e adesso? Adesso bisogna continuare a lavorare, però dai siamo sulla strada buona